pure stasera mangiare uno strano però stasera mangiamo uno strano uno strano da paura chi è? guardate qua guardate che bella bestecchina e guardate che bracetta che stanno a fare stiamo due gli epanios e stasera se premiamo vero panios? certo assolutamente alla grande il fumo ciao ci vediamo dopo ciao ciao